I cavalli stanno per scomparire nella nebbia, mancano 250 metri al punto dello stacco. Grazie alle immagini strette che ci offre la regia con puntualità, si può vedere quello che succede. Si ritraggono Istrione Rex e soprattutto Island Kronos. Sono bene a rete i primi sei. Si ritrae anche Idilio Mech, lo stacco della macchina, veloci, tre su di una linea, di dentro c'è Islanda, allargo Ivaris Griff che prova a convergere tra i due Indios di Lelle. Si getta di galoppo Islanda, Indios di Lelle prova a tenere i piedini di dentro, ha Ivaris Griff che però insiste e prende la testa di forza dopo 250 metri di corsa. Ivaris Griff e Stefano Manzato, quindi battistrada dopo 300. Si sta per completare la prima curva, secondo c'è Indios di Lelle con Pierluigi Giannoni. I 400 se ne vanno in un di molto svelto 27-6, c'è stato parecchio strappo con Ivaris Griff che davanti ai tribune battistrada su Indios di Lelle. Terza si è sistemata Igea, di fuori Ingalmar con in scia Istrione Rex, mentre ultima chiusa in corda Ipipurrà. I 600 in 43, prova a rallentare il ritmo adesso Stefano Manzato con Ivaris Griff ha due lunghezze di margine su Indios di Lelle. Dietro non succede nulla per il momento, Ingalmar è sempre nella posizione peggiore allo scoperto con in scia Istrione Rex. Il secondo parziale addirittura in 32-3 fa 59-9 per gli 800 metri che diventano a questo punto tattici. Ivaris Griff sempre con una di margine su Indios di Lelle che è stato richiesto con la frusta poco prima del chilometro che se ne va in 1,14 e mezzo circa. Ivaris a una su Indios di Lelle coperto da Ingalmar dal fondo del gruppo, prova la mossa in terza corsia Ipipurrà. Passiamo sull'imbocco dell'ultima curva, questi 400 se ne sono andati in 32, 1,31 i tre quarti di miglio. Ivaris a una su Indios di Lelle che si prepara a mezza ruota, guadagna di dentro anche Igea. Non progrediscono né Istrione Rex né Ipipurrà. Ipipurrà quando si va verso l'ingresso della retta d'arrivo con Ivaris che ha una su Indios di Lelle che prova ad accorciare. Indios di Lelle va all'attacco di Ivaris Griff quando siamo all'ingresso della retta d'arrivo. Sposta Indios, Ivaris è sotto frusta ma ancora una di vantaggio, di dentro guadagna anche Idilio Mech. Idilio Mech finisce molto forte di dentro ma Ivaris Griff salva una corta testa dall'avversario. Terzo c'è Indios di Lelle. 29,8 per gli ultimi 4, 1,59,9 il tempo totale. 1,15 la media al chilometro. Ecco Stefano Manzato con Ivaris Griff che è in chiara evidenza un po' in crisi Ivaris. Idilio Mech era terzo alla corda, ha guadagnato parecchio ma non abbastanza. Arriva infatti il palo prima di Idilio Mech. Ivaris Griff vince con un collo di vantaggio sull'avversario al terzo Indios di Lelle. 1,15 la media, raddoppio per Stefano Manzato. La prima per Erie Rantani nei colori della scuderia del Presidente. 8,21 al totalizzatore. 1,15 la media al chilometro. Grazie.